Allora, poi ci dedicheremo proprio alla vicenda, torniamo alla vicenda che non abbiamo mai perso tra l'altro, quella di Federica Puma che ha iniziato lo sciopero della fame e ne parleremo poi, è una puntata questa che viviamo nella prima parte fino alle 20 con gli amici Ima Giuliani e Fabrizio Mignacca, poi avremo Antonio Agnello, avremo Domenica Ferrulli, storie incredibili, storie dall'altra Italia, quella che sono sempre meno le persone che hanno tempo, voglia e coraggio di raccontare e noi grazie a voi possiamo dare davvero la voce agli ultimi. Eravamo dal dottor Mignacca, adesso però me lo sono trecciato, 1968, il processo, io ho letto dove è stato fatto, a Perugia, Narduccia è di Perugia, succede tutto a Perugia negli ultimi 50 anni. È una casualità anche che c'è un'intervista che Andrea Pucci fa al papà Ugo Narducci dove Ugo Narducci dice di aver regalato una calibro 22 al figlio, però gli amici di Francesco dicono ma lui non ha mai andato a caccia quindi questa calibro 22 a che cosa gli può essere servita. In realtà la problematica è che ciò che incrocia Francesco Narducci con Firenze non è solamente questa cosa, nel senso nel 1974 è agli atti che lui fa il militare proprio a Firenze, fa il carro a Firenze, riformato poi in seguito e insomma praticamente ci sono qualche elemento che poi è stato anche valutato da parte degli inquirenti. Ricordiamo che Francesco Narducci è stato scagionato perché almeno in un paio di quegli omicidi lui pare sia stato negli Stati Uniti a fare degli aggiornamenti. in quasi tutti. Esatto, quindi esce dalla rosa proprio perché pare avere un alibi molto forte. Io però sono una carogna. No, no, lei non dovrebbe dire, dovrebbe dire no ma come un amico come lei. No perché lo sa più. Ma mi dai anche di lei. Allora, Coniglio e il martedì che vi ricorda? Coniglio e il martedì? Che cos'è che mi ricorda? Mi ricorda un romanzo di Aurelio Mattei che era un, diciamo, un consulente del professor Francesco Bruno che ha seguito pure la vicenda. Sì, qualcuno mi dice anche del, insomma, un funzionario del SISDE. Scrive questo libro e... Perdonami, noi vi diciamo tutte le cose per ricostruire davvero la grande storia di questo paese dal punto di vista delle verità nascoste. Le diciamo nei tempi radiofonici. Voi siete talmente svegli che fissate le tessere più importanti, le incastrate e ricostruite il mosaico. Sentite il Coniglio e il martedì. Scrive questo romanzo dando delle... Infatti, quello che ci ha un po' stupito è questo titolo, un po' stupito tutti e mi ricordo dieci anni fa con una collega. Ma che c'è zicca il coniglio. Fai l'anagramma e forse uscirà. Ti dico una cosa e voglio invitare pure chi ci ascolta a fare l'anagramma. Esce un anagramma molto carino. Non te lo dico perché qua veramente mi denunciano. Molto carino, ma un suggestivo. L'anagramma è più pesante. Però il Coniglio e Martedì sono due parole che secondo noi danno un indizio molto importante. Martedì scrive questo romanzo che ha ispirato poi ovviamente la vicenda del Mosso di Firenze. Qualcuno dice, ah sì, c'è l'elemento della rosa rossa. Ti ricordo Gabriella Carlizzi che diceva che a capo di tutte le tragedie italiane c'era questa grandissima cupola. Io ho voluto altrettanto bene a Gabriele e poi Paolo è un mio fraterno amico. Ma io riesco a essere amico nelle distinzioni emotive. E poi voglio ricordare una cosa. Non l'ho mai fatto. Ho fatto sempre paneggirico nei loro confronti perché lo meritano. Ricordate quando intervengono da noi questa persona, questo opinionista, perché loro sono di una serietà e di una passione straordinaria, di un'onestà davvero incrollabile. E viva Dio. Grazie. E dicevo appunto questo romanzo che poi parla appunto di questa rossa, il suo serie Achille lascia se non sbaglio una rosa rossa sui corpi delle giovani vittime e tutti comunque si sono indirizzati su questa pista della rosa rossa. Io invece di solito vedo quello che non si vede. Cerco, almeno penso di saperlo fare, quello che non si vede, quello che appare e però che la gente poi lascia da parte. Il titolo, il titolo non è l'anagramma, non si va nell'anagramma, si fa proprio nelle parole. Allora vi abbiamo dato questi elementi. Roba da Play Insight. Gli americani dicono metti e sparagliela davanti agli occhi che la verità non la troveranno mai. Non nasconderla, mettergliela all'era. Quindi il 68, Coniglio il martedì che sembra un titolo così, lasciato lì senza nessun fine, la c'è in custodi della pistola che secondo me la segui non porta da nessuna parte, il famoso processo a mele. Sono secondo me gli elementi molto importanti. Adesso però mi dovete rispondere agli ascoltatori che vi vogliono tanto bene e vi seguono sempre con interesse. 342-4151-406. Mario vi chiede che ne pensate dei libri di Giuttari e chi erano Narducci e Calamandrei? I libri di Giuttari sono un bello sfogo immagino per una persona che ha provato a dare una cornice di senso anche un pochino certe volte fantasiosa, altre volte con degli elementi estremamente forti sotto, magari cercando anche di, con quella cornice fantasiosa, di dare un senso a quello che in realtà non aveva senso, quindi assolutamente in buona fede. I libri di Giuttari da questo punto di vista sono estremamente autobiografici, mi verrebbe da dire. Oggi poi tra l'altro si è dedicato solo alla scrittura, quindi evidentemente affortuna da questo punto di vista. Una persona alla quale voglio veramente bene, lo sapete, come altrettanto voglio a voi, è Paoletto Franceschetti e lui ha spesso sostenuto la storia Vigna. Un nostro ascoltatore dice chiediamolo al dottor Vigna se ne sa qualcosa. Noi abbiamo sentito il dottor Vigna. Abbiamo sentito, siamo andati a casa sua, ci ho ospitate, una persona molto gentile e lui l'ha detto, sì è vero, qualcuno diceva che il mostro di Firenze ero io. Pensa c'era... Però la bellezza nostra è che abbiamo questo rapporto molto spartano, cioè a me dicono una cosa del genere, mi inalbero, mi inquieto. No vabbè ma lui comunque è stato un giudice dell'antimafia, voglio dire una persona che ha una certa... Quindi a chi l'accusa di questo lui diceva, vabbè che devo farci. Siamo andati dopo 40 anni, quindi lo sfogo l'avrà avuto, l'avrà metabolizzato, l'incavolatura, se così si può dire. Qui veniva sotto casa e mi diceva tu sei il mostro di Firenze, porco, e tutto di più. È toccato. La moglie che muore in circostanze misteriose. Esatto, tutti che dicono forse sia stato lui perché la moglie forse si voleva confessare. Vabbè una serie di bislaccate mentali. Mi viene da dire che il dottor Vigna rispetto alla moglie che è morta, insomma ha scontato anche molto psicologicamente questa morte della moglie che è effettivamente... Ragazzi, sono le vostre guai chi tocca questa libertà che è lo spazio che ho dai miei amici e dicono quello che vogliono. Ma sui mandanti e la rosa rossa chiede Andrea. Ma la rosa rossa, ma la rosa rossa, allora fondamentalmente la rosa rossa indica un nucleo molto ristretto di un gruppo. Io adesso so che ci saranno degli orgasmi cerebrali di giro nell'etere. Ma basta reggere i libri di Recardia sulla magia della Golden Dawn. Recardia è l'ultimo maestro della Golden Dawn, un'associazione molto famosa britannica se non sbaglio. Insomma hanno una serie di rituali molto pesanti, molto simile alla mastoneria. La rosa rossa indica il nucleo più intimo, diciamo i capi. La rosa rossa è il bocciolo centrale. Questo è quello che è la rosa rossa in effetti. Poi che da qui si voglia vedere un gruppo che ha depistato anche addirittura da cosare l'11 settembre, perché questa è la mente, secondo me forse è un pochino ampio. Di certo indica un gruppo ristretto di persone all'interno di un tipo di associazione, però bisogna vedere che cosa c'entra con il mostro di Firenze. Perché il mostro di Firenze, penso di condividere l'idea, è un serie killer. È un serie killer drammaticamente non divide il piacere di uccidere con nessuno. Esatto, questo è il principio fondamentale. Noi infatti abbiamo scritto pure un libro, uno qualcuno, centomila. Ha risposto alla dottoressa Montani, chiedeva delle vostre pubblicazioni e gli ha risposto il malvolo. Alessandra chiede, escludete del tutto i suoi ospiti, Davide, escludono del tutto che il mostro possa essere una mostra? Una donna? Bella domanda. Sì, escludo perché ha una pulsione sessuale, indica, secondo me, un'impotenza nell'atto sessuale, anche perché ci sono delle... Beh, la morte di Nalducci, però, credo, io qui vado in un'intuizione anche logica, ed è bello seguire anche la logica, se noi facciamo dei voli estremamente fantastici, ma lontani dalla realtà. Qui si parla di cose estremamente fantastiche, ma di argomenti assolutamente seri, vedi le nostre inchieste, quindi io cerco sempre il riscontro oggettivo dei racconti, se no di un sacco di fregnacci. Il caso Narducci, da un punto di vista logico, se si segue quella strada, chiude il discorso, cala il sipario sul mostro. Ma, cala il sipario, ripeto, non si è potuto verificare alcune circostanze, perché lui... Sì, però, da quando muore lui... Quando muore lui smettono le cose, ripeto, ci sono altri tre o quattro... Era morto, poi non era morto lì, se anche... Ma sì, c'è stato anche un problema da riconomorte, questa è anche molto lunga a spiegarla. Sono stati, comunque sono stati assolti. Nascondere il cadavere, se in caso di suicidio, ad esempio, si fa l'autopsia, non si fa l'autopsia in caso di suicidio. Quindi in realtà ci sono tanti pareri contrastanti. La verità giudiziaria è che fondamentalmente lui, in un atto di depressione, si è suicidato. Questa è la verità giudiziaria. Poi le altre verità, ripeto, come tu dici, possono andare nell'interpretazione, nelle testimonianze che vengono fatte, ma la verità giudiziaria, ahimè, che Narducci non è il custode, come veniva detto, dei famosi fetici. Non ha avuto crisi di coscienza che si voleva far scoprire, perché il mostro di Firenze ha mandato tanti messaggi alla procura. L'ultimo dell'85, drammatico, con un lembo di seno della povera ragazza, della povera ragazza francese, ragazza, una donna francese. Quindi è una vicenda estremamente drammatica. A volte ci allontaniamo un pochettino anche come professionisti, come tecnici, dal dramma. Noi conosciamo personalmente Alessandra Rontini, la cugina di Pia, e la mamma Winnie Rontini. Ed è veramente uno strazio stare... Il padre poi c'è andato, come si dice a Roma, c'è andato dentro... C'è andato dentro, tanto che c'è morto. C'è morto, c'è morto. C'è morto sulle scale della questura. Un atto anche, come posso dire, drammatico in questo senso, perché sulle scale della questura, andando a ritirare il mensile che gli agenti autotassandosi gli fornivano. Perché lui ha speso veramente tutto. Per una famiglia di un certo livello, tutti i pittori ricotati, Giulio Davicchio, lo stesso fratello di Alessandra Rontini, che mi sfugge il nome... Feron, 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 che poi è morto suicida a seguito forse di una depressione, al quale poi abbiamo dedicato la copertina del nostro libro La Voce dei Vinti. Devo dire, una famiglia veramente incomiabile, una famiglia che è stata distrutta completamente. Leggo la nota. Pia Gilda Rontini, di anni 18, da poco tempo impiegata presso il bar della stazione di Vicchio, in Maciorette, nella banda musicale del paese. Immaginate com'è così libato questo mondo, così incantato e arriva il mostro che ti fa... Sì, erano dei bambini. Dei bambini. Noi siamo abituati a vederli con quelle foto in bianco e nero, no? Poi, ripeto, io racconto molto spesso, anche Imma, siamo d'accordo, sull'entrata a casa di Winnie. L'entrata a casa di Winnie ci ha fatto cambiare completamente prospettiva, perché è come entrare lì dove è successo tutto. Sembra tutto bloccato in quel momento. E effettivamente poi trovi di fonte a queste donne che sono delle vere e proprie guerriere, no? Sono delle persone indomite, nonostante tutto, però poi c'è il dramma della figlia, dell'unica figlia morta a 18 anni, per l'atto, tra l'altro in quella maniera, ripeto, con un overkill impesantissimo. Poco più di una bambina. Poco più di una bambina, anche lui, bravissimo ragazzo di una bravura. Ma la cosa che contraddistingue tutte le vittime del mostro di Firenze, che sono delle bravissime persone. A sentire chi li conosceva, gli amici, i parenti, sono delle persone stupende. Allora, verrebbe da dire che il vero delitto del mostro di Firenze è averceli tolti. Aver negato a questi ragazzi la possibilità di essere quello che sono. Ci fermiamo per l'ultima pausa, poi ancora per i dieci minuti finali con Ima Giuliani e Fabrizio Mignacato.